Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando ancora del Jova Beach Party perché Pescara è in prima fila. L'amministrazione comunale del capologo adriatico infatti si dice pronta ad ospitare il concerto di Giovanotti. L'area proposta è quella della Madonnina e la manifestazione ormai dovrebbe tenersi a settembre. Rimangono però le criticità denunciate dagli ambientalisti. Vediamo insieme il servizio. Pescara in pole per ospitare la tappa abruzzese del Jova Beach Party. Dopo che il prefetto ha bocciato l'evento previsto per il 17 agosto a Vasto per motivi di sicurezza, l'amministrazione di Pescara si è subito mossa per organizzare il concerto di Lorenzo Cherubini. Sappiamo che hanno lavorato bene e lavorato tanto per ospitarla. Purtroppo per motivi burocratici questo non è potuto accadere. Pescara si è solo fatta avanti per cercare di mantenere l'evento nella regione Abruzzo sostanzialmente. Io già da ieri ho preso contatti con il manager di Giovanotti sostanzialmente. Bisogna innanzitutto ipotizzare una possibile data alternativa. Questo chiaramente non compete a me ma compete allo staff del cantante che a breve mi faranno giungere delle date che per loro potrebbero essere adatte per svolgere il concerto qui a Pescara. Pescara dal canto suo deve mettere a disposizione la logistica. È la prima problematica da risolvere e trovare uno spazio adeguato. Noi già abbiamo individuato un'area che è quella della ex Madonnina, però quell'area va ampliata. Di certo per questioni logistiche non potrà tenersi a cavallo di Ferragosto ma presumibilmente se arrivasse il sì di artista e prefetto si svolgerà a settembre. Siamo stati disponibili fin dall'inizio noi. Quindi lo saremo ancora. Vogliamo che Pescara rinasca anche sotto questo profilo e speriamo che... Perché ce l'auguriamo? Settembre? Perché no? La prima decata di settembre sarebbe perfetta considerando tutto il lione, certo, considerando il tutto ovviamente. Rimane aperta la questione ambientale. Il concerto di Vasto è stato annullato da tutti gli addetti alla sicurezza per motivazioni legate ai levi di fuga, al rischio alluvione e ai mezzi di soccorso. Ma gli ambientalisti denunciavano anche il conseguente inquinamento della spiaggia, i danni causati dalle circa 40.000 persone previste e la moria di pesci causata dallo spianamento del fosso marino. Il fosso marino è un'area a rischio idrogeologico molto rilevante, ufficialmente, e quindi gli stessi carabinieri hanno detto ma come si fa a portare 30.000 persone su un fosso che avrebbero dovuto tombare, su un fosso che può dare rischi di alluvione molto così seri. Poi si aggiungono ulteriori problematiche relative alla sicurezza, parcheggi, vie di fuga, la statale 16, insomma una serie di problematiche che da subito dovevano far pensare di non vendere biglietti fin da dicembre senza avere tutte le attualizzazioni. Se la manifestazione si dovesse tenere alla Madonnina di Pescara, le associazioni si dicono pronte a tornare sulle barricate. Quella è una zona, infatti, dove vivono specie protette da leggi regionali. Beh, certamente se la propongono alla Madonnina faremo anche lì le barricate perché lì ci sono specie protette, c'è il giglio di mare, una specie protetta da una legge regionale, beh, io spero che si rendano conto di non riplicare il problema che già c'è stato a vasto. Ci sono altre aree, se sceglieranno quelle dove non ci sono criticità ambientali, nulla questi o diciamo così, nel senso anzi saremmo pure contenti, ma se invece vanno alla Madonnina avranno gli stessi problemi che hanno avuto a vasto. Adesso la cronaca. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Chieti ieri mattina hanno arrestato in flagranza di reato Arnold Cucchi, 25enne di nazionalità albanese, ma residente in provincia di Rimini, accusato di traffico e di illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua auto, come vedete, sono stati rinvenuti ben occultati all'interno della tappezzeria quattro panetti di eroina per un peso complessivo di oltre due chili, nonché uno scatolone con all'interno tre sacchi neri con oltre 15 grammi di sostanza da taglio. La droga recuperata da un esame effettuato dai carabinieri del laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Chieti è risultata di ottima qualità con un grado di purezza tra i più alti fra quelli sequestrati nella provincia teatina negli ultimi anni. E' l'ennesimo colpo, il quinto negli ultimi sei mesi, inferto ai signori della droga proprio dal comando provinciale Carabinieri di Chieti. E' ancora cronaca, nuovo furto al centro commerciale Universo di Silvi Marina. Quattro persone a bordo di una Mercedes di colore scuro ritrovate ai piedi della collina nei pressi del centro commerciale. Attorno alle quattro di questa mattina sono riuscite ad entrare all'interno dell'edificio prendendo di mira il negozio Unieuro. I malviventi hanno agito in pochi minuti e dopo aver sfondato una vetrina si sono impossessati di alcuni computer esposti per un valore di alcune migliaia di euro dandosi poi alla fuga approfittando dell'oscurità. All'alba c'è stata una mara scoperta da parte degli addetti della vigilanza. Ingenti danni alla struttura sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che stanno conducendo le indagini. Cambiamo argomento adesso. A Cepagatti è stato raggiunto l'accordo tra comune e sindacati per le agevolazioni fiscali per i proprietari di casa e gli inquilini in affitto. Vediamo. Accordo raggiunto tra l'amministrazione di Cepagatti e sindacati. Ci saranno nuove agevolazioni fiscali per quanto riguarda l'abitare che avvantaggeranno sia i proprietari degli immobili sia gli inquilini in affitto. I proprietari pagheranno come cedulare secca sugli affitti il 10% che è un risultato importantissimo su cui abbiamo lavorato da diversi mesi. Gli inquilini avranno una detrazione oltre al canone calmerato ma avranno una detrazione fiscale da 250 a 500 euro. Quindi è un traguardo molto importante per i cittadini di Cepagattesi con una riduzione sostanziale di tasse sia per gli inquilini che per i proprietari. Questa norma riguarda solamente le abitazioni e non le attività commerciali. Inoltre non sarà retroattiva. Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali dovranno essere annullati i contratti già stipulati per firmarne di nuovi. Questo è un importante strumento che va a recepire la Convenzione nazionale e soprattutto è rivolto a tutte le abitazioni che vengono locate a fini abitative. Sono stati divisi il territorio di Cepagatti in diverse zone omogenee dove vengono dati dei valori minimi e massimi per stare all'interno di questa Convenzione. Naturalmente se non è un contratto assistito dalle organizzazioni sindacali c'è bisogno ai fini di ottenere questi vantaggi all'Agenzia delle Entrate di un'attestazione, un'asseverazione da un'organizzazione dei proprietari e una degli inquilini o semplicemente con un'attestazione onilaterale di una di qualsiasi delle organizzazioni che ha sottoscritto. Ci spostiamo nella Marsica adesso. Record di domande accolte sul reddito di cittadinanza proprio nella Marsica. In Abruzzo comanda Pescara davanti a Montesilvano e dal capoluogo marsicano. Ad Avezzano è boom di richieste per il reddito di cittadinanza. Secondo i dati forniti dall'Inps, sono 960 le domande accolte per l'accesso al reddito alla pensione di cittadinanza, le misure adottate dal Governo per contrastare la povertà e per favorire il reinserimento lavorativo. Il capoluogo marsicano è la prima città nella provincia di L'Aquila per numero di domande accolte, addirittura la terza in Abruzzo dopo Pescara e Montesilvano. In percentuale ha ottenuto l'accesso al reddito circa il 2.3% della popolazione avezzanese, dati che assumono ancora più rilevanza se confrontati con quelle delle maggiori città abruzzesi, con l'Aquila ferma all'1.3%, Pescara al 2%, Chiedi all'1.7% e Teramo all'1.3%. 2837 le domande accolte in tutta la Marsica in cui spiccano i dati di San Benedetto dei Marzi, 2.7%, Tagliacozzo 2.5% e Pescina 2.3%. La provincia dell'Aquila ha accolto 4.984 richieste, risultando la terza in Abruzzo dopo quelle di Pescara e Chiedi. In Abruzzo si contano oltre 30.000 richieste avanzate, di cui quasi 20.000 sono state quelle accolte, 9.000 le domande respinte o cancellate, circa 2.000 quelle ancora in lavorazione, numeri che rispecchiano il 2.2% nel contesto nazionale, in cui salta all'occhio il 18.8% della Campania e il 17.3% della Sicilia. In tutta Italia, il totale delle domande per il reddito e la pensione di cittadinanza presentate è di circa 1.400.000 unità, di cui 905.000 sono quelle accolte, il 55% al sud, circa il 28% al nord e il 16% delle regioni del centro. L'assessore regionale al turismo Mauro Febbo ha presentato il calendario di eventi in programma per la festa nazionale dei Borghi Autentici d'Italia, che quest'anno ha scelto il Borgo di Barrea per la sua decima edizione. Decima edizione di Borghi Autentici, si va a Barrea, si punta sempre di più sul turismo di qualità, assessore Febbo. Intanto ringrazio l'Associazione Nazionale di aver scelto l'Abruzzo come location, la ringrazio di aver scelto Barrea perché Barrea ha sicuramente delle caratteristiche che anche altri borghi hanno, forse una qualcuno in più, nel senso che si trova all'interno del parco, ma non solo, ma ha anche un specchio di acqua importante, limpido, certificato oramai nel tempo, che ha avuto anche dei riconoscimenti importanti e quindi offre quella cosa in più che fa bella figura all'Abruzzo interno. Io credo che sia stata una scelta giusta, una scelta che a me personalmente è piaciuta e mi auguro che piaccia anche ai tanti fruitori di questa manifestazione. L'obiettivo è anche quello di coniugare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche della regione con le peculiarità e le eccellenze della gastronomia. Ma sempre, è chiaro che l'obiettivo è sempre quello perché le zone interne offrono queste bellezze naturali, architettoniche, storiche, culturali. Oggi non c'è tutto questo se non ci si abbina all'enogastronomia. E l'enogastronomia, credo che per quanto riguarda l'Abruzzo, è sicuramente una forza di attrazione, una forza di altissima qualità e su cui noi stiamo investendo molto. È stato presentato nei giorni scorsi il nuovo volume, scritto dallo storico Vittorio Morelli. Il libro è un viaggio nel tempo per ripercorrere la storia della raccolta delle olive nell'area vestina, conosciuta già ai tempi degli antichi greci. Vediamo. Con Vittorio Morelli, storico di Pianella, questa nuova pubblicazione, La cultura dell'olivo e dell'olio nell'area vestina, hai raccolto tutta la tua storia in questo tuo nuovo libro. In questo volume ho raccolto la tradizione abruzzese e soprattutto dell'area vestina. Partendo dalla copertina, in copertina c'è la riproduzione di un frantoio idraulico di Loreto, della famiglia Venturini. Frantoio idraulico è una novità perché solo dei mulini si parlava, dei mulini idraulici. Invece questa è una scoperta che presuppone una tecnologia più evoluta rispetto ai mulini. Io in pratica ho fatto una sintesi della storia dell'olio e dell'olivo nella nostra zona. Questa storia in tradizione viene citata anche dai romani, da autori romani, uno di questi è Silvio Italico. Poi io mi sono occupato del canto della raccolta dell'oliva che era passato in secondo piano, quasi nel dimenticatoio. In pratica io ho rimesso insieme questi tre canti che sono dello stesso genere e ne ho fatto un canto unico. L'importante è che in questo canto ci sono tracce storiche come la fiera di Foggia, la fiera di Senigallia, si parla dei mammalucchi, si parla del mare, di un mondo lontano che gli agricoltori non avevano forse mai visto. C'è stata la collaborazione dei docenti, dei ragazzi delle scuole e di persone esterne perché parlare di civiltà contadina sempre è un fatto desueto, un fatto ormai passato in secondo piano. C'era soprattutto la convivenza, i rapporti tra le varie contrade. Non vuole essere un revival, un tornare indietro, ma è una documentazione di quello che era la civiltà contadina nel passato. Si arricchisce di nuove pubblicazioni la collana Atria Civitas Vetusta curata da Roberto Marchione che nel secondo volume racconta i documenti inediti dello storico Nicola Sorricchio. Vediamo. Martedì prossimo, 13 di agosto, ad Atri ci sarà un convegno per la presentazione del secondo volume della collana Atria Civitas Vetusta, volume che contiene i documenti inediti di Nicola Sorricchio. Si riparte insomma con questo racconto, con questa narrazione della storia plurisecolare di Atri. Sì, dopo il primo volume La storia di Atri durante il Ducato Acquaviva ho voluto riprendere in questo secondo volume appunto intitolato I documenti inediti di Nicola Sorricchio il quinto tomo manoscritto dei monumenti adriani di Nicola Sorricchio storico atriano del 1700-18 secolo in questo tomo che è rimasto finora inedito. È un tomo molto interessante per la storia atriana in quanto narra tutte le vicissitudini dall'inizio nel 1605 fino alla fine del 1767 del collegio dei Gesuiti che fu istituito ad Atri in quegli anni quindi parla un po' di tutti gli atti che furono fatti per poterlo istituire di come andò avanti appunto la storia perché c'erano ci fu raggiunto un accordo appunto tra il Comune e i Gesuiti per poter usufruire del priorato di Sant'Andrea e quindi di stare lì in questo collegio questi patti erano praticamente che i Gesuiti avrebbero dovuto istituire anche una scuola quindi due maestri di scuola per poter permettere ai giovani atriani di istruirsi e in più avrebbero dovuto versare una quota annua al Comune per poter sopperire all'alimentazione e al vestiario dei trovatelli che erano presenti in Atri presso l'ospedale di Sant'Andrea che era annesso al priorato che negli anni si accumulò un debito spaventoso e tra l'altro mentre si era in tribunale per discuterne i Gesuiti nel 1767 furono anche espulsi dal Regno di Napoli e quindi finì là e poi il collegio dopo varie vicissitudini ancora tornò in possesso del Comune di Atri Questo convegno alla riapertura delle scuole farà anche il giro degli istituti superiori della città Ritengo che sia importante che i giovani conoscano anche la storia locale perché sono spaccati di viti importanti che ci permettono di capire da dove veniamo Adesso apriamo la pagina dello sport iniziamo ovviamente con il Pescara che domani sera affronterà il Mantua seduta di allenamento questo pomeriggio a porte chiuse per i biancoazzurri di Luciano Zauri che dunque se la dovranno vedere con il Mantua allo stadio Adriatico prosegue il lavoro di recupero di Simone Farelli e Luca Crecco con il loro rientro in gruppo previsto per la prossima settimana Melegori invece sarà pronto per la fine di settembre mentre per avere a disposizione l'ex palermitano ciò ci bisognerà attendere ancora un po' intanto è ufficiale il passaggio di Cristian Bunino al Padova l'attaccante va ai biancoscudati con la formula del prestito mentre il Delfino continua ad andare a caccia dell'esterno d'attacco con Di Gaudio che è lo stato attuale è l'obiettivo numero uno della società biancazzurra anche se il nodo ingaggio è un ostacolo forte alla trattativa con Riccardo Sottil praticamente tolto dal mercato dalla Fiorentina e con le quotazioni di Stoian in decisa flessione è proprio il giocatore del Verona ad essere in cima alla lista di gradimento del tecnico Zauri domani sera intanto per il match contro i Virgiliani spazio è un tirante formato da tre neo arrivati come Galano Tuminello e Brunore arrivato dal Parma nell'ambito dell'operazione che ha portato Gaston Brugman in Emilia fischio di inizio alle ore 20 e 30 che si qualifica affronta la vincente dello scontro tra Regine e Tempoli che giocano sempre domani sera al Castellani nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa pregala consueta proprio di Luciano Zauri scendiamo adesso in serie C parliamo del Teramo i ritardi nei lavori di rifacimento dello stadio Bonolis di Piano Daccio potrebbero costringere i biancorossi a spostarsi fuori Regione a Rieti per la precisione per giocare la seconda gara di campionato la prima in casa contro la Sicula Leonzio di questo e di mercato ha parlato il presidente del Teramo Franco Iachini che ascoltiamo Presidente altro passaggio ufficiale passaggio delle quote ufficiali davanti a un notaio della gestione dello stadio i lavori vanno avanti per il Manto e per i seggiolini ci potrebbero essere però da ritardi si purtroppo dei ritardi possono all'orizzonte perché la ditta ha avuto dei contrattempi nell'ultimo cantiere che si stanno ripercuotendo su di noi quindi rischiamo di non rispettare le date previste da calendario sicuramente la riconsegna sarà fatta prima del primo settembre però a quel punto dobbiamo incastrare le omologazioni del del manto dello stadio la commissione pubblica di spettacolo ci sono tutta una serie di riempimenti burocratici da risolvere obbligatori giusti e quindi noi per non correre il rischio di rimanere senza la struttura omologata ci stiamo organizzando preventivamente a trovare un'altra location per poter distruggare la prima in casa che poi in casa sul calendario ma giocheremo forse la giocheremo fuori però vedremo poco noi ci mettiamo come dire in sicurezza poi se possiamo giocare in casa saremo ben felici di giocare in casa facendo un punto sul mercato si aspetta o magari avete già messo in preventiva un altro ingresso e c'è anche qualche uscita da fare ma no questo non noi non anticipiamo quindi è andata bene come è andata questa stagione acquisti senza anticipare nulla qualcosa può mancare può mancare non manca anzi la rosa è già abbastanza completa quindi se ci sarà ben venga se no non ci preoccupiamo la squadra è già ben solida adesso e altre due decisioni che avete preso per quanto concerne l'organizzazione dopo Fano Teramo si torna non a Celano ma si va a Torricella in ritiro e per quanto riguarda il match di Coppa Italia del 18 agosto ci sarà l'inversione di campo sì allora il ritiro continuerà a Teramo il mister ha deciso di farlo proseguire a Teramo visto questi spostamenti che dobbiamo fare in maniera esterna quindi abbiamo anticipato la chiusura del ritiro da Celano proseguire a Teramo i ragazzi saranno ospitati per il suo tre Sporting che si alleneranno sul campo di Torricella andremo a Gubbio che sarà una partita in casa anche se non giocheremo in casa e da lì poi dopo si inizia per la per la stagione quindi poi il 25 inizieremo a Catanzaro quindi a Catanzaro noi andremo naturalmente certo è un po' lontanino avere i tifosi ma credo che diversi tifosi si stanno già organizzati e chiusura sulla scelta dell'ex presidente Luciano Campitelli di sponsorizzare il Roseto Shax come l'ha presa se vi siete sentiti o ci sono state magari non lo so riscontri in tra senso tra di voi no no ci siamo sentiti solo per messaggio qualche battuta sono scelte libere che una persona può fare è obbligato la Saporiveri è uno sponsor del Teramo continua a essere uno sponsor del Teramo Luciano ha sempre ribadito che lui è il primo tifoso del Teramo Caccio questo non è un tradimento è andato in un altro settore il basket evidentemente voleva dare anche delle risposte al territorio di Roseto che gli avrà chiesto e l'ha fatto bene adesso scendiamo in serie di perché notizia di ieri l'ufficializzazione dei nove gironi e di quello F soprattutto che interessa le squadre abruzzesi non c'è il Foggia che è finito nel girone H mentre c'è la laziale Fiuggi insieme al Cattolica nel girone F in cui sarà impegnato il notaresco che in settimana ha affrontato l'amichevole con il Grotta Mare da qualche giorno la società del presidente Salvatore di Giovanni ha ufficializzato l'arrivo di Marco Sanzovini il tecnico rosso-blu Roberto Vagnoni intanto conferma proprio l'importanza dell'esperto centravanti all'interno dello spogliatoio oltre che sul terreno di gioco ci stiamo allenando tanto ma oggi non abbiamo fatto partire la testa accorciamo tardi poi si accorci tardi dai tempo e spasi all'avversario di giocare non è mai che poi vai in difficoltà con qualsiasi squadra questa è una squadra organizzata frizzante poi invece atteggiamento il secondo tempo molto bene al di là che loro hanno cambiato abbiamo cambiato tanto anche noi però mi è piaciuto il correre sempre in avanti mettersi a posto e correre in avanti infatti il secondo tempo si può vedere abbiamo corso molto meno perché eravamo sui 10-15 metri e ho visto una squadra veramente organizzata che corre in avanti penso che non devo certamente presentarlo io si vede subito dall'occhio come entra in campo cambia subito l'atteggiamento anzi forse già nello spogliatoio quindi non devo insegnargli niente sicuramente deve entrare nei nostri meccanismi di gioco ma è talmente abituato a giocare visto che ha fatto tante partite è intelligente quindi saprà muoversi io guardo che cominciamo a vedere alternative c'è competizione se c'è competizione vuol dire che possiamo fare bene altrimenti siamo costretti a far giocare sempre gli stessi giocatori anche quando non stanno bene ma dall'esempio di oggi qualcuno non era in palla abbiamo cercato di cambiare e questo ci ha dato aggioramento e dobbiamo insistere su questa strada questo era anche il nostro ultimo servizio e vi ricordo che i nostri contributi sono disponibili on demand sulla piattaforma youtube e anche sul sito web www.tv6.it prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19 per il momento è tutto grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata